Tempi rapidi per valutare il parco eolico di Ravenna. Lo ha promesso il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattina al Salone Ecomondo di Rimini rispondendo sostanzialmente a quanto richiesto dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Ravenna e nelle scorse ore anche da Confindustria Romagna. L'ultimo decreto approvato dal Governo Meloni ha quasi raddoppiato da 40 a 70 i membri della Commissione che dovrà valutare i singoli progetti. L'obiettivo del ministro è di sbloccare entro fine legislatura 70-80 gigawatt dalle fonti rinnovabili. Da Roma si attendono novità anche per le comunità energetiche. Anche su questo punto si sta lavorando come sulle tribellazioni in Adriatico che torneranno con nuovi giacimenti fra i 17 e i 30 chilometri dalla costa. Era una delle richieste di Confindustria Romagna espressa proprio nella giornata di giovedì. Dal presidente del Veneto Luca Zaia, tuttavia, sono arrivate anche preoccupazioni per le conseguenze delle trivelle sulle coste. Più o meno le stesse per anni al centro del dibattito ravennate. Il ministro ha giustificato la scelta con le difficoltà attuali dell'Italia di fornire energia sufficiente a imprese e famiglie ha assicurato controlli sulla sicurezza. Poi un'altra risposta in diretta a Confindustria. Per il ministro anche la fusione nucleare è una via da percorrere e una fonte da considerare come rinnovabile. Tuttavia è un tema che il Governo non ha ancora preso in considerazione.